Stiamo andando a Valdobbiadene Stiamo andando a Valdobbiadene Stiamo andando a fare una scampagnata sulle colline del Prosecco Noi sappiamo bene dove bisogna andare per arrivare all'Osteria Senz'Oste All'Osteria Senz'Oste Non sappiamo se la benzina ci basterà Non sappiamo dove poter andare a fare benzina in caso non ci bastasse Ma questo non ci importa un cavolo Noi sappiamo come funziona all'Osteria Senz'Oste Sarà tutta una scoperta Oggi è una giornata di non solo Siamo arrivati abbiamo parcheggiato in un altro posto perché il parcheggio era pieno 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 E perché l'altro parcheggio era riservato all'altro agriturismo Comunque questo è quello che c'è dietro di noi Ed è spettacolare Grazie 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 Unde Prezzo Grazie Grazie Abbiamo un suvinum e ora andiamo in cerca di un posto a sedere e di un po' di cibo. Sì, c'è qualcosa di libero giù. Sì, c'è qualcosa di libero. Sì, c'è qualcosa di libero. Sì. 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 Sì.